Ed eccoci di nuovo insieme per i nostri incontri e appunto per gli incontri abbiamo qui altri personaggi nel nostro salotto. Allora Paolo Rocchi che è un attore, ciao Paolo, ci diamo del tuo? Sì, sì, come no Adolfo. Ciao e buonasera a tutti i telespettatori. E accanto a Paolo c'è Salvo Lopresti, anche lui attore. Ciao Paolo. Senti, allora vi abbiamo invitati perché nei prossimi giorni, esattamente il 29 e il 30 di marzo al Teatro Nuovo di Capodarco voi siete gli interpreti di un film, Elisa. Elisa. Rinunzia. Et comunica. E cioè? Che significa? Segnala e comunica. Allora questo è un film genere un action che è praticamente action thriller che vuole appunto... Tu però non c'è la faccia del thriller. Del thriller no, io... Del killer. Del killer, bravo, bravo. Cioè hai la faccia del killer? Ecco sì, perfetto. Sono un killer. Sei un killer. Sono un killer in questo film quindi... Fammi la faccia scura del killer. No, la mia faccia nel film è questa. Vabbè. Molto gelida e molto significativa. Quasi piratesca. Eh sì, quasi piratesca. E diciamo che questo film che nasce appunto per spiegare come appunto il signoraggio monetario va a influire sulla società. E allora si narra che in questo film c'è una crisi. Una crisi significa che tutta la gente è diventata zombie. Infatti se noi facciamo caso nel nostro vivere quotidiano, prima quando uno diceva arriva il tossico, che me dai un euro? In realtà siamo diventati noi tossici del denaro. Perché adesso ognuno cerca di andare a rapartarsi, a fare lavorare con i voucher, a cercare di... Adesso ce l'hanno tolti. Quindi non ce l'abbiamo più. Quindi abbiamo rinunciato ai sogni per i soldi, ma ci troviamo senza sogni e senza soldi. Quindi il regista Patrick Mattarelli in questo film, Elisa, rinuntia et comunica, ipotizza il mondo come infestato da un virus. Dove questo virus riduce la gente in zombie. Persone che praticamente non hanno intelletto. Cioè ci hanno prosciugato, ci hanno mangiato tutto. Ci hanno prosciugato e si ritrova a fare un lavoro magari anche fisico di grande entità, però sono tutti incamerati come se fossero zombie. Aspetta un attimo, adesso faccio fare la faccia cattiva a salvo. No, non la faccio fare perché non ce n'è bisogno, nel senso che non sono un killer in questo caso. Che fai allora? Tu sei il commissario? No, io interpreto il ruolo di un giornalista, giornalista di inchiesta. Quindi dovresti cambiarti. Esatto, però invece che nello studio io vado direttamente sul campo. Sostanzialmente questo giornalista cerca un contatto con un fuoriuscito da questa organizzazione perché si ipotizza che poi c'è anche un'organizzazione che è sovranazionale. Una FSI che sarebbe la BCE. Nel senso la FSI ha queste fiale che sono l'antidoto per venire fuori da questa crisi di zombie. Grazie a queste fiale, quindi ipoteticamente grazie ai soldi che ci inviano le banche e noi riusciamo ad andare avanti. Quindi che succede? La gente che dà queste fiale a un certo punto le persone che stanno sotto a queste famiglie, a queste grandi banche a un certo punto dice io posso guadagnare, allora sotto l'oro cerca di fregare, perché comunque fregare la famiglia, diciamo, il nucleo. Capito? E quindi succede che nel film in maniera molto semplice... Non ce lo svelo a tutto perché se no... No, no, non lo svelo, no, no, non lo svelo, non lo svelo, assolutamente. E praticamente c'è l'oligarca che è colui che dà queste pozioni alla gente per sopravvivere... Ma solo per sopravvivere? Solo per sopravvivere? No, 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 solo per sopravvivere perché la gente non può morire. Perché se poi la gente muore io non posso avere potere su di loro. Quindi a me interessa dargli la giusta pozione per poter governare il popolo. Salvo, e il giornalista poi scopre tutto? Il giornalista tramite appunto questa intervista che riesce a... Che dai la faccia al giornalista però? Un po', eh? Tra il commissario. Tramite appunto questo fuoriuscito, questa persona che è fuoriuscita da questa organizzazione riesce a intervistarlo e ovviamente anche poi nell'economia del film aiuta in qualche modo anche lo spettatore a orientarsi all'interno di questa storia perché questa scena che ovviamente è stata girata diciamo tutta in uno shoot viene poi montata all'interno del film per cui dà un po', attraverso il racconto di questo personaggio dà un po' il supporto anche di narrativa al film. Quindi svela delle cose, si scopre delle cose però non voglio andare avanti insomma perché... Certo, no, va bene così. Senti, se foste stati inglesi avreste votato per la Brexit immagino insomma. Sì. Senti Paolo, ma chi l'ha scritto questo film? Allora, questo film è stato scritto dal regista Patrick Mattarelli. Ah, lui l'ha fatto? Di dove? Lui è originario svizzero, di Lugano. E come si incontra con te? Allora, ci siamo incontrati per caso. Sento svizzero, io stavo facendo le lemosine quindi mi ha detto ma tu sai che sei... No, ci siamo incontrati diciamo cinque anni fa perché lui cercava degli attori per girare un cortometraggio tirate sul regista che abbiamo girato e poi da lì è nata un'amicizia, una collaborazione e una reciproca stima e ci siamo trovati d'accordo su molti temi e... e questo è il secondo prodotto un po' più grande, più ampio perché sono stati coinvolti 40 attori, 30 location, abbiamo girato qui a Fermo alla ceramica lauretana, abbiamo girato al Furlo, abbiamo girato in diverse zone del Fermano, del Pesarese... Quando volevate filmare il degrado, la ceramica lauretana... Eh, le sue interviste è stata proprio girata... Realmente avevamo bisogno di una location nascosta ovviamente, lucrotetta, occhi indiscreti diciamo così, per cui si prestava... Si prestava e anzi ringraziamo la cantina Ortenzi che ci ha appunto dato la sua cantina per girare alcune scene e infatti li ho invitati alla proiezione... Siete sovranisti voi? No, noi siamo attori... Signoraggio... No, noi siamo attori, noi siamo attori che interpretano... Però ho capito che vi piace questa... Un copione, no, non è una protesta, diciamo che la verità nessuno la sa, quindi noi diciamo che un regista ha avuto questa idea di fare questo film... Lui non ne poteva più, è una persona così, però diciamo che a sua volta, diciamo che nel film per chi non sa di tante cose, poi la realtà secondo me nessuno la sa perché poi in Italia ci siamo divisi in complottisti, populisti... Tutti visti, tutti visti... Tutti visti, tutti visti... Tutti, tutti... Cioè la verità non la sappiamo, credo nessuno, forse qualcuno la sabrà, quindi non mi sento di dirti questa è la verità, il regista... Tu fai l'attore insomma... Ci ha dato questa sceneggiatura, poi dietro c'è un concetto ampio che vuole dare agli altri, ma ognuno, se uno viene al cinema a vedere il film, può essere un film qualsiasi dove appunto ci sono tre agenti... A volte sì, a volte sì perché comunque sono tre agenti che sono stati ingaggiati da un personaggio sotto a questo l'oligarca perché sapevano dove stavano queste scorte di fiale per sopravvivere, poi di questi tre agenti due cercano di riportare le fiale a casa diciamo al mandante... Uno, che sarei io, che invece fa di testa sua, però ecco il film lo svelerà, io sono... Senti, ma tu nasci come... Allora io nasco come... Tu nasci come tutti gli uomini... Io nasco come tutti gli uomini e quindi io nasco come... diciamo che c'è stata una maturazione, io sono... ho fatto lo Zecchino d'Oro a nove anni con Gino Tortorella... Dai... Sì, ho fatto le finali regionali... Ci canti la canzoncina? Sì, la canzoncina potrei cantarla... E poi niente, da lì mi sono appassionato al teatro, ho fatto con Maurizio Leone... Stai scherzando o dici sul serio? Vero, vero, vero... Cioè le prove? Come no, ho già la videocassetta con Gino Tortorella... Sto scherzando... E lì a suo tempo io pesavano 60 chili, già avevo nove anni, ero enorme... E Cino Tortorella faceva le battute su di me, quindi diciamo che era più... E' il personaggio... Mi presentavo serio, quindi già impostato, così è... E invece poi lui mi ha massacrato nel senso che la verità è anche questa, quello che porto nei miei spettacoli... Che alla fine io sono, diciamo parlando della commedia dell'arte, la figura del capitano, quello che sembra che capisce tutto, in realtà non capisce niente... E quindi io mi professo non attore, né artista, un sognatore che nella sua vita vive un sogno, quello di fare l'attore... E poi la mattina mi sveglio alle sette e vado a lavorare in fabbrica, quindi questa è la verità, perché i miei genitori hanno un'azienda, quindi ho ereditato questa azienda di tacchi, non di scarpe... E quindi diciamo che di giorno lavoro e quindi di campo e di notte sopra il palcoscenico vivo. Bene, e invece Salvo? Io abito, sono qui nella zona di Cupra Marittima, però sono trapiantato, perché sono originario della Sicilia, sono tanti anni che ho iniziato una carriera in teatro, quindi un po' in giro... Quindi tu vieni dal teatro, insomma? Sì, 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 assolutamente, vengo dal teatro, anche se poi il cinema è un linguaggio che mi affascina molto e... E questo è il primo impegno cinematografico, oppure... Diciamo, con un ruolo così definito, sì, poi ho fatto delle piccole esperienze su anche produzioni, insomma, importanti, però piccole cose, però il grosso l'ho fatto in teatro e continuo a farlo in teatro. In qualche compagnia? Sì, sì, adesso collaboro con Espressioni Teatrali di Porto San Giorgio, anzi stiamo preparando anche un lavoro nuovo che debutterà a maggio, si chiama Ospiti, con la regia di Alessandro Rutili, con Carla Civardi, Marco Tombolini, sono i miei compagni in scena. E poi sto preparando nel frattempo altri due progetti, uno che parte proprio da me, perché a fianco alla carriera di attore faccio anche quella, per cui immagino quanti soldi io posso avere, anche quella di poeta, attore di teatro e poeta, insomma. Eh, ma ci sta pure. Sì. Tu pensi a Giovanni Testori, no? Sì, guarda, Giovanni Testori adesso mi dai un assist, mi fai un bell' assist perché con un'altra compagnia di San Benedetto stiamo preparando un lavoro dove parliamo, inseriamo, inseriremo un estratto del factum est di Testori. La scomposizione delle parole. Esatto, la parola che si fa carne, con Mizzar Tagliavini, che è la regista e la curatrice dello spettacolo, Daphne Ciccola e... Pensavo che fosse finito nel dimenticatorio, factum est, non se ne parlava più di questo libro esplosivo. Sì, sì, poi a suo tempo, insomma, anche quando uscì, insomma, anche su un bel dibattito... Un colpo nello stomaco. Sì, sì, un bel dibattito e un po', sinceramente, anche se non c'ero, però rimpiango un po' nei ricordi, anche in qualche filmato televisivo, quel fervore che riuscivano a creare alcuni intellettuali intorno comunque a dei temi come, poi è questo che affrontiamo in Lisa, che sono di scottante attualità, come si diceva una volta. Prima hai fatto quella domanda, Paolo ha detto siamo attori e concordo, però allo stesso tempo, come tutti coloro che hanno un mestiere, che fanno il giornalista o qualsiasi altro mestiere, siamo comunque inseriti nella società. E quindi ovviamente abbiamo magari un po' forse la fortuna magari di poter esprimerci attraverso dei prodotti che poi hanno una distribuzione al pubblico, alle persone. Quindi magari siamo un po' più leggermente, più privilegiati perché riusciamo a raggiungere più persone. Però anch'io mi sento in questa condizione, nella condizione in cui parlava Paolo. Un attore però non significa che sono avulso dal mio contesto sociale. Quindi ovviamente si cerca di prendere posizione, poi è chiaro, la verità... Senti, faccio la stessa domanda che ho fatto Paolo. Tu come ti imbatti con il regista? Come ti scegli? Allora in realtà devo fare un piccolo passo indietro perché la chiave me l'ha data proprio Paolo perché c'eravamo conosciuti in altri ambiti e avevo conosciuto anche Patrick. Avevamo fatto qualcosina insieme, però poi era un progetto che non si è concretizzato alla fine. Quindi conoscevo anche Patrick, però diciamo un po' meglio lui. Allora Paolo, come accade tra colleghi, serviva qualcuno che interpretasse questo ruolo, ha pensato a me e io lo ringrazio. E poi con Patrick ci conoscevamo già, però ovviamente abbiamo approfondito durante le riprese anche questo rapporto con lui. Poi anche per una questione puramente logistica, Patrick è un po' più lontano perché si divide tra la Svizzera e Fano. Hai pubblicato le poesie? Sì, le ho pubblicate e ti dicevo sto preparando un lavoro per il teatro. Ho fatto una selezione di alcune poesie del libro che si chiama Diario. E con un gruppo, sempre altri amici perché a me piace condividere, un gruppo musicale, i Sargano, stiamo unendo sostanzialmente la parola poetica con la musica. Però è un progetto, secondo me, innovativo proprio anche a livello musicale, nel senso che abbiniamo anche dei suoni elettronici con invece dei suoni tradizionali. Esatto, la classica formazione chitarra, basso, batteria, insomma. Stiamo portando avanti anche questo progetto. Paolo, allora, prima di salire sul set cinematografico, che ambiente hai frequentato? Allora, io come ti dicevo ho fatto il teatro dialettale con Maurizio Leoni della compagnia Amici del Teatro Fermano. Poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di studiare. Quindi sono andato da Stefano De Bernardin, che aveva fatto una scuola di teatro, per due anni ho fatto dizione, un po' di teatro di prosa. Poi ho conosciuto Piero Massimo Macchino e ho iniziato a sperimentare. Quindi è come a fare i miei personaggi, perché come ti dicevo prima io prendo spunto dalla realtà, però non etichettando una persona in particolare, perché il mio scopo non è quello di offendere persone o personaggi. Il mio scopo è quello di raccontare la realtà da come la vivo io e utilizzare gli stereotipi che io vedo per far sorridere la gente, per riflettere una presunzione. Faccio nevolo, faccio nevolo, come esempio. Cioè a un certo momento, ma scusa, se il problema è lo Stato, è lo Stato a un certo momento, che ci sta sopprimendo a un certo momento. Cioè a me, mi ha talmente soppreso, che ho quattro bypass, il sangue per passare da un'alteriore a un'altra, ha il telepass in questo momento. Allora io faccio, siccome che lo Stato c'ha da fare, io faccio gli incidenti, praticamente c'è un amico mio che c'è il furgone, c'è l'azienda, io c'è una macchina da buttare, lui metta un buono, io faccio salire, mi muoio. Oh, ma io non sto lì dentro, sto lì, faccio, a lui gli do 200 euro, io vado pronto su un corso, siccome sono un artista, sono drogato di arte, sono artefatto, in un certo momento. Artefatto? Mi prendo, sì, mi prendo 2000 euro, mi fa lo coso, così, cioè ma è lo Stato che c'ha da fare, noi siamo onesti. Però questo è Maurizio Costanzo, dai. Sì, questo è Maurizio, si chiama sempre Maurizio da chi mi sono ispirato, però ci tengo sempre a dire che non è una critica, perché se vi dicessi che Alba Chiara di Vascorosi è ispirata a Barbara D'Urso, forse non sarebbe la canzone di punta di tutti i canzionati. Bene, ragazzi, mi sono divertito. Come, eh? Allora, diamo appuntamento per il 29 e 30. Diamo appuntamento, quindi, velo tu, Paolo. Allora, il 29 e 30 marzo, al Teatro Nuovo di Capodarco, alle 21 e 15, Elisa, Renuntia et Comunica. Che significa? E ci divertiremo, perché ci siamo già divertiti, i personaggi, l'avete visti, sono veramente esilaranti, quindi non ci resta che andare al Teatro Nuovo di Capodarco, che tra l'altro è bellissimo, quindi l'opportunità è anche questa. Bene, grazie e tra qualche attimo ci sentiamo con l'ultimo personaggio.